Marcegaglia, scenario nuovo e ripetibile. Il messaggio politico di Emma Marcegaglia in occasione dell'Assemblea di Confindustria è molto chiaro. L'Italia è di fronte ad un'occasione unica, ad una sfida che non può perdere, ricominciare a crescere. Esiste oggi un nuovo scenario politico, con un governo forte, una maggioranza molto coesa, una opposizione che si mostra disponibile al dialogo. Tutto questo ha la possibilità di regalarci una nuova stagione di relazioni industriali e può produrre un momento favorevole per le riforme, la modernizzazione del Paese e quindi la sua rinascita economica. Marcegaglia ha voluto mandare un messaggio positivo a politici ed imprenditori presenti nella sala, in un atteggiamento improntato senza alcuna incertezza all'ottimismo ed alla determinazione. Ascoltiamo l'intervento della Marcegaglia. Ci aspettano sfide impegnative, ma in Italia si è creata una situazione favorevole al cambiamento. C'è un nuovo governo a cui faccio qui i migliori auguri di buon lavoro. Di noi siamo chiamati ad una grande sfida. C'è uno scenario nuovo e irripetibile. Abbiamo la possibilità di far rinascere il Paese. Anche Silvio Berlusconi, presente all'Assemblea, fa il suo intervento, sposando in pieno tutti i punti toccati dal Presidente di Confindustria. Ascoltiamo. Posso dire che la relazione che ho molto apprezzato della Presidente potrebbe essere, anzi sarà il nostro programma di governo. Dobbiamo fare guerra all'oppressione burocratica, all'oppressione fiscale e anche all'oppressione giudiziaria. Io cerco di mantenere, di instaurare prima, di mantenere un clima anche di collaborazione, di dialogo con l'opposizione. Abbiamo un vantaggio importante che dal Parlamento è uscita l'opposizione estrema.